Allora, innanzitutto, un avviso ovvio, domani non c'è laboratorio, essendo il primo novembre. Troveremo poi un modo per riuscire a recuperare il laboratorio attraverso delle esercitazioni, soprattutto per non rimanere fuori sincrono con l'altro corso. L'anno scorso, il primo novembre è capitato di martedì, quindi il problema c'erano loro, quest'anno dovrà succedere, capita a noi, quindi un anno ciascuno. Quello che probabilmente faremo è, dunque, il laboratorio di questa settimana sarebbe ancora ovviamente sui modelli di processo, il laboratorio 4, e noi lo rimandiamo ovviamente a mercoledì prossimo, che sarà l'8 novembre. Il laboratorio 5 è un laboratorio di riepilogo, in cui veniva chiesto a fronte di un problema di fare sia il modello delle classi che il modello di processo. Allora, io quello che ho pensato di fare, adesso poi vi manderò poi un messaggio con i dettagli, è di proporre, di svolgere questo laboratorio per conto vostro e discuterlo poi in aula. Quindi, avere poi, dedicare poi un'ora e mezza, che potrebbe essere giovedì 9, adesso cerco di vedere se si incastrano bene le cose, ma vi dico poi più con precisione, in cui in aula possiamo discutere gli eventuali dubbi che avete avuto nel cercare di risolverli, risolvere questo esercizio per conto vostro, in modo da cercare, in qualche modo, dedichiamo una o due lezioni, se necessario, a vedere insieme le soluzioni, ma non è tanto, non vorrei tanto presentarvi la soluzione, quanto piuttosto permettervi di fare domande o discussioni che in laboratorio si potrebbero avere e invece purtroppo ci manca il laboratorio e non possiamo fare. Quindi questo richiede che voi vi guardiate prima l'esercizio, proviate magari ad abbozzarlo e poi lo si discute insieme in aula, come un'esercizio più aperta, più interattiva, non semplicemente stare a guardare uno che presenta una soluzione già fatta. Adesso, i dettagli di questo li sto ancora cercando di incastrare, però sarebbe l'idea per riuscire ad assorbire nell'arco di due settimane questo laboratorio che viene a mancare. Ok, oggi invece, anche in parte approfittando questo punto che i laboratori vanno più lenti, iniziamo un percorso che ci porterà al prossimo argomento del corso. Il prossimo argomento, diciamo così, di progettuale sarà legato ai casi d'uso. Prima di tuffarci nei casi d'uso, prendiamo un attimo fiato e vediamo tutto questo lavoro che stiamo facendo dove va a finire, cioè il contesto in cui stiamo lavorando. Allora, questo disegno qua l'avevamo già mostrato, se non sbaglio, nella prima lezione, che cerca di riassumere un possibile modello di sviluppo di un sistema informativo che in qualche modo parte dai bisogni del cliente ed arriva alla consegna di un sistema finito accettato dal cliente stesso. Questo, se vogliamo, è il punto di partenza e il punto di arrivo. In mezzo ci sono una serie di passi di, sul ramo sinistro, di analisi, progettazione e sviluppo, il sviluppo ce l'abbiamo qua sotto, e sulla destra c'è una fase di controlli, verifiche, test. Non a caso, questo si chiama diagramma AV, per la sua forma, in questo diagramma si vede che l'importanza, o ci aiuta a evidenziare, che l'importanza delle fasi di test, di verifica, è pari, è uguale a quella delle fasi di sviluppo, forse anche maggiore. Cioè, in qualche modo, in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto software, è sempre necessario porre molta attenzione a come il prodotto verrà verificato, come verrà testato, che garanzie riusciamo a fornire che ciò che facciamo funzioni bene e funzioni nel modo corretto. Questo non capita per caso. Ah, perché lui è un genio, l'ha fatto giusto. No, non possiamo contarci. Può capitare una volta su 100.000, che ti va bene di culo, come termine tecnico. Ma negli altri casi è sempre necessario capire, alla fine della fase di analisi dei requisiti, questi requisiti li abbiamo compresi tutti? Tutti coloro che devono lavorarci hanno capito? Perché se tutti hanno capito, alla fine, quando ci sarà un sistema, dopo che avremo fatto tutto questo percorso, quando ci sarà un sistema che possiamo provare, prima di consegnarlo al cliente, lo proveremo e proveremo se funziona correttamente rispetto a quei requisiti. non è che, capisci, da qua a qua sopra passano magari sei mesi, un anno di lavoro. E chi è che si ricorda a memoria esattamente cosa avevamo detto? No, dobbiamo fare riferimento a qualcosa di certo e ben definito. E questo nei vari fasi. Chiaramente più andiamo verso il basso, più le attività sono di tipo tecnico, implementativo. Allora, vediamo se quella pagina web funziona bene, se la query va in crash, eccetera, eccetera. Al livello più alto invece si parla più delle funzionalità generiche. Quindi, tutta la parte di sinistra si basa su, su un po' quello che stiamo facendo, sulla capacità di poter descrivere bene ciò che deve fare il sistema, in particolare noi ci concentriamo sulla fase dei requisiti, sulla descrizione di ciò che il sistema dovrà fare. E quindi sviluppiamo dei formalismi e dei metodi su cui stiamo lavorando proprio per fare questa attività qua. Le fasi successive richiedono strumenti diversi, strumenti di lavoro diversi che noi qua non impariamo, no? Ma comunque l'impostazione mentale è sempre la stessa. Cioè prima devo essere sicuro di che cosa faccio? Prima di farlo, anche per poter essere sicuro di accettarlo quando mi torno indietro. Ovviamente il punto d'arrivo è questo qua in alto, cioè il cliente che accetta il prodotto che ho fatto, perché poi allegato a questo c'è il pagamento della fattura, tanto per capirci. Ed è anche il punto più difficile, per cui tutto il castello che sta sotto deve mirare a quello, perché spesso i bisogni del cliente, vedete che è l'unica cosa che qua abbiamo disegnato come nuvoletta e non come un quadrato ben definito. Perché non sono sotto il nostro controllo, non è, anzi, molto spesso succede che il cliente abbia dei requisiti che non sono neppure molto ben chiari a lui, al cliente stesso. Vuole delle cose ma non capisce bene cosa vuole, solo quando le vede fatte si accorge che non era quello che voleva. È un rischio tutt'altro che teorico, no? succede tutti i giorni. E proprio rispetto a questo dobbiamo cautelarci, no? Dobbiamo avere un metodo di progetto in cui il cliente pensa di sapere cosa vuole, noi definiamo quali potrebbero essere requisiti, le caratteristiche di una possibile soluzione a ciò che lui vuole e coinvolgiamo il cliente dicendo guarda che io l'ho formalizzati così questi requisiti, è questo esattamente ciò che volevi? Lo accendiamo? Devo riuscire ad avere una documentazione di progetto che da un lato serva a me per sviluppare il sistema ma dall'altro serva anche come strumento di comunicazione verso il cliente per poter essere ragionamente più sicuro che il cliente sappia che cosa sto costruendo o eventualmente si accorge che ciò che ho capito io dei suoi bisogni non era ciò che lui aveva in mente ce ne accorgiamo subito quando ancora non ci siamo fatti troppo male scendendo giù nelle parti più onerose anche dal punto di vista dell'impegno lavorativo, no? ecco questo è riassunto qui sulle slide c'è una c'è una figura ma se cercate su internet ce ne sono di più belle se poi venisse anche centrata non sarebbe male adesso che cercano di riassumere in modo grafico qual è il problema qui fa vedere chiaramente questa è la progettazione di un'altalena e i vari riquadri dicono come il cliente ha spiegato ciò che voleva l'ha spiegato così come il project leader l'ha capito come l'analista l'ha progettato come l'ha scritto il programmatore come è stato descritto dal business consultant quindi dal consulente esterno di business questa è la documentazione come è stato documentato il progetto troppo spesso è così come è stato installato quando poi è andato in mano chi lo doveva realmente installare quanto abbiamo fatturato il cliente per una parte questo è il supporto quindi come è stato supportato e l'ultimo è cosa il cliente realmente voleva poi su queste ce ne sono decine di varianti di queste immagini però al di là del sorriso che strappano il problema che descrivono è reale cioè nel sviluppo di un progetto sono coinvolte molte figure professionali qui ce ne sono indicate otto anzi sette perché il cliente compare nella prima e nell'ultima però ciascuno ha una visione un punto di vista diverso sul progetto e il rischio che abbiano in mente sistemi diversi stiamo parlando di sistemi diversi con caratteristiche diverse è un problema concreto reale allora come facciamo noi o meglio come diciamo così il campo dell'ingegnere del software ha cercato di affrontare questo problema non dico risolvere perché sarebbe troppo ma perlomeno cerchiamo di affrontarlo e mitigarlo attraverso una fase di lavoro che si chiama un metodo di lavoro che si chiama ingegneria dei requisiti cioè l'ingegnere dei requisiti è una serie di processi di attività che mirano alla costruzione dei requisiti cioè è un processo che ha come obiettivo quello di costruire i requisiti del sistema in qualche modo stiamo cercando di dirci vogliamo arrivare a definire soprattutto nella fase iniziale come vi dicevo di questa figura il passaggio più critico è il primo perché avviene tra noi il committente poi da qua in giù sono attività più tecniche sono più sotto il nostro diretto controllo nel primo passo vogliamo avere dei requisiti partiamo dalla seconda frase di questa slide che sono delle descrizioni dei servizi supportati dal sistema e dei vincoli all'interno dei quali il sistema deve lavorare questi requisiti non nascono come le margherite in primavera ma sono il punto d'arrivo di un'attività di lavoro che si chiama appunto ingegneria dei requisiti quindi questa cosa qua è un po' autologica perché dice che il processo di il requirement engineer in serve per costruire requisiti e i requisiti sono ciò che salta fuori dall'ingegneria dei requisiti sembra che non aggiunga molto in realtà la parte i concetti qua sono due uno che cosa sono i requisiti cioè descrivono cosa il sistema fa e i vincoli all'interno dei quali deve operare parleremo parecchio di vincoli e la parte sopra dice che questi requisiti non saltano fuori da nulla ma richiedono un certo processo di lavoro ben definito quindi di fatto sono delle professionalità quelle di chi fa appunto l'analista cioè l'ingegneria dei requisiti e quali sono i principali passi, attività, fasi dell'ingegneria dei requisiti queste prime tre elicitation, analysis, formalization è ciò che in qualche modo abbiamo cominciato a fare anche se in modo un po' intuitivo la fase di elicitation dei requisiti cioè di estrazione dei requisiti o di sollecitazione dei requisiti è una fase nella quale in teoria l'analista interagisce con il cliente dico in teoria perché noi non lo facciamo cioè nella pratica si va fatta l'analista interagisce con il cliente per tirargli fuori ciò che vuole per cercare di fare emergere questo è un po' il senso che diamo in italiano questa parola di fare emergere quelli che sono i requisiti che in qualche modo il cliente tende ad avere impliciti nella sua testa e in qualche modo dobbiamo riuscire a catturarli comprenderli a modo suo però deve dirci tutto la cosa più pericolosa è un requisito importante ma che sia taciuto perché viene dato per scontato ah ma è ovvio che doveva essere così no ovvio niente è ovvio se non me l'hai detto non puoi lamentarti se non l'ho fatto fatta questa fase di estrazione di requisiti scusate poi ci ritiriamo in camera nostra o ci ritroviamo all'interno del gruppo di analisti e si fa l'affare di analisi perché quando io vado a parlare col cliente lui mi parla nel suo linguaggio del suo mondo dei suoi requisiti poi a un certo punto queste cose qui le devo sistematizzare e tradurre in ciò che il sistema informativo deve fare quindi devo capire io è che quello che facciamo quando leggiamo un testo di esercizio lo leggo questo testo lo leggo due volte cerco di capire cosa aveva in mente quel maledetto che l'ha scritto e analizzo i vari aspetti cioè analizzare significa farsi domande e darsi delle risposte certe a vari aspetti di dettaglio analisi vuol dire arrivare al dettaglio quindi da un'informazione più di insieme che è quella che esce dalla recitation quella che può uscire da un documento iniziale estraggo dei dettagli questi dettagli poi vengono formalizzati in qualche modo li devo mettere nel suo bianco cioè a vari dell'analisi ho capito i dettagli e poi questi dettagli come li fisso li fisso attraverso dei formalismi che possono essere delle tabelle degli schemi come l'UML dei testi scritti a seconda del tipo di caratteristiche ovviamente dovrò avere un modo per formalizzarli vi dicevo che quando noi facciamo i nostri esercizi stiamo un pochino collassando tutte queste tre fasi proprio perché sono esercizi relativamente semplici limitati le stiamo collassando abbastanza in modo intuitivo cioè cerchiamo direttamente di passare alla formalizzazione cercando di capire cosa c'è scritto nel testo però se ci pensiamo sono tre fasi mentali diverse capire cosa c'è scritto analizzarlo nei suoi dettagli e poi formalizzarlo secondo le regole del linguaggio formale o del tipo di formalizzazione che abbiamo scelto ciò che servirebbe dopo ancora è una fase di verifica e convalida del risultato quando il sistema sarà stato costruito io la verifica la posso fare solamente a valle dopo che dopo che il sistema è stato costruito lo confronto con i requisiti che avevo specificato all'inizio ovviamente visto che noi non includiamo in questo corso la fase di presentazione questa fase di verifica neppure la possiamo fare però ci è facile capire almeno la parte di convalida validation queste due parole in inglese hanno due significati diversi anche se a volte si traducono in italiano entrambi con verifica qualcuno usa anche validazione ma non è una parola italiana in italiano si si convalida quando si parla di verifica di solito si tende a controllare che il sistema corrisponda ai requisiti che sono stati dichiarati ho verificato che non so le emissioni del motore sono al di sotto della soglia stabilita quindi è un test rispetto ai criteri definiti prima criteri che nel nostro caso sono la specifica formalizzata se nel mio diagramma delle classi ci sono certe informazioni vado a vedere che il sistema effettivamente le supporti le memorizzi e possa rappresentare tutte quelle informazioni la convalida invece è qualcosa di più ad alto livello che non richiede potrebbe anche non richiedere l'esistenza di un sistema quando convalidare un sistema significa verificare scusate non devo usare questa parola significa controllare che le funzionalità svolte dal sistema servono effettivamente a risolvere il problema per cui è stato pensato perché io posso avere un sistema bellissimo preciso implementato in modo ideale rispetto alle sue specifiche ma il sistema non fa ciò che serve perché c'è uno scollamento tra ciò che il sistema fa completamente verificato e testato al 100% e la sua utilità effettiva cioè quando sbaglio il primo passo quando faccio le specifiche perfette ma non le ho convalidate bene rispetto ai bisogni effettivi allora questa fase di convalida capite che se si deve confrontare con dei quelli che ho chiamato bisogni effettivi sì sono effettivi nel mondo reale ma non sono questi purtroppo formalizzati quindi questa è una fase complicata complicata perché le incomprensioni le ambiguità del linguaggio naturale dell'interazione tra le persone si vanno a concentrare quasi tutte in questa fase iniziale da lì in avanti abbiamo un documento di requisiti che va avanti noi qua parliamo di requisiti quindi stiamo ancora concentrandosi solamente su ciò che il sistema deve fare e non ci vogliamo in questa fase ancora occupare poi in tutto il corso ma in generale su questa fase dell'ingegnere dei requisiti non ci vogliamo occupare di come il sistema deve essere organizzato per soddisfare questi requisiti e questo è un altro rischio quello di saltare troppo in fretta le conclusioni quello di decidere già subito vai col cliente e decidiamo insieme come è fatta l'home page del sistema ma quello facciamolo fare chi è capace di farlo chi è il suo mestiere chiediamoci soprattutto quali sono le funzioni che il sistema deve offrire ai clienti non dove mettere l'icona o di che colore fare lo sfondo esempi banali ma per farci capire che c'è il rischio molto forte di passare subito a descrivere come è fatto il sistema anziché descrivere cosa il sistema deve fare i requisiti descrivono solamente ciò che il sistema deve fare e lasciano a qualcun altro il lavoro di decidere come deve essere fatto qualcun altro che fa quello per mestiere progettista sviluppatore di sistemi è difficile perché se tu parli col cliente lui ha in mente una certa cosa ha in mente una cosa concreta cerchi di riscriverti il risultato finale di ciò che vuole e per lui è più difficile descrivertelo in termini di ciò che fa per i suoi utenti cioè non è un linguaggio non è un modo di pensare lui è abituato a usare sistemi e gli dice ma mi piacerebbe avere un sistema che faccia certe cose ma ti descrive come il sistema come se l'ha immaginato forse se sei fortunato se sei sfortunato ti parla di frasi sconclusionate e da cui non capisci nulla sto litigando da due mesi credo all'interno di un progetto con una persona che vuole un certo tipo di sito informativo essenzialmente ad esempio stiamo litigando per definire quali devono essere le categorie concettuali principali dei documenti che devono essere inseriti in questo sito e tutte le volte che io gli chiedo allora proviamo a ragionare su quali sono i temi principali come dividiamo la risposta dall'altra parte viene capita con come disegniamo l'home page in quali blocchi in quali aree dividiamo l'home page che non me ne frega niente nel senso che poi è un lavoro che magari facciamo fare un grafico qualcuno che mentre invece il problema è come organizzare l'informazione non se fare i quadrati più grandi o più piccoli se metterli in orizzontale lo metterli in verticale sembra una banalità ma poi molto spesso questa distinzione cioè parlami di che cosa vuoi fare non di come sarà fatto è molto difficile da far diciamo così permeare al di fuori del nostro ambiente in qualche modo e quindi se noi vogliamo lavorare a livello di requisiti che cosa sono questi requisiti beh è una parola molto ampia requisiti quindi possono essere delle dichiarazioni delle affermazioni anche molto astratte molto ampie non detto vaghe o ambigue ampie astratte oppure possono essere cose molto specifiche cioè io potrei dire il sistema deve supportare sia gli utenti diciamo alle prime armi gli utenti poco esperti sia con delle funzionalità in più degli utenti maggiormente esperti ho detto una cosa generale ho detto una cosa precisa vuol dire che ho già due categorie di utenti e a queste due categorie di utenti si abbineranno funzionalità diverse non ho ancora detto se avranno la stessa interfaccia oppure avranno due interfacce diverse quella normale e quella per esperti non l'ho detto magari lo dirò da un'altra parte lo dirò dopo ho solo detto che ci sono due utenti diversi che avranno accesso a sette di funzionalità diverse però non è che ho dato molti dettagli non mi serviva ancora entrare nel dettaglio in questa fase qua però ho dato un'informazione in più sul sistema oppure potrebbe essere un requisito dettagliato che dice che il tempo di risposta quando l'utente fa una ricerca deve essere inferiore a 150 millisecondi allora lì ho una pagina ben precisa una query ben precisa una misura ben precisa da prendere anche questo è un requisito sono tutte domande in qualche modo richieste che io faccio su un sistema che ci dovrà che sto progettando che dovrà soddisfarle tutte un requisito è sempre qualcosa di bifronte si pone sempre alla terra di confine tra due tipi diversi di utenti che lo vedono da due lati opposti da un lato il requisito è ciò che io concordo col mio cliente immaginiamocelo per fare un esempio se vogliamo sulla burocrazia italiana un requisito lo inserisco in un bando di gara nel bando di gara scrivo che il sistema dovrà fare certe cose allora nel bando di gara gli devo scrivere che cosa voglio fa che cosa voglio poi sarà chi si presenta chi presenta una proposta a questo bando di gara che mi dirà come lo vuole realizzare e mi spiegherà che è in grado di farlo quanto costa con che tempi in che modalità io però nel bando devo essere abbastanza aperto per permettere a chi parteciperà al bando di poter proporre le proprie soluzioni cioè se no cosa faccio nel bando scrivo direttamente il codice fatemi questo non so se hai già fatto tu no io ti devo dare descrivere qualche cosa che sia come si dice qua aperto all'interpretazione da parte di chi lo dovrà realizzare quindi è giusto che ci siano di nuovo non ambiguità ma genericità per implementare un certo requisito ci saranno tanti modi diversi ma nello stesso tempo se un capitolato di gara deve essere preciso perché io alla fine devo poter dire se quel requisito è stato implementato sì o è stato implementato no o bene o male quindi mentre ciò che scrivo deve permettere permettere a un progettista di interpretarlo in base al suo modo di interpretare il sistema delle sue tecnologie alle sue tecnologie che vuole proporre alle sue idee di come implementarlo nello stesso tempo una volta che è implementato devo poter verificare se sia soddisfatto oppure no quindi deve essere da un lato aperto ma dall'altro preciso dall'altro chiuso più chiuso quindi vanno queste cose descritte in questo modo cioè quando noi facciamo tanto per fare esempio visto che abbiamo già cominciato a sporcarci le mani un modello concettuale non ti stiamo dicendo come fare la base dati la tua base dati c'è un modello concettuale con 20 classi la tua base dati minimo minimo avrà 80 o 90 tabelle perché poi devi aggiungere i dettagli lo storico l'utente le permesse eccetera non te lo sto facendo io questo progetto però ti sto dicendo quali sono le informazioni essenziali che io voglio che tu gestisca può registrare con delle tabelle che sono fatte come le mie classi magari no magari sono più sicuramente sono più complicate però a valle io posso poi verificare che le informazioni che hai nel tuo database per capirci effettivamente si è in grado di rappresentare le informazioni così come io le avevo dichiarate nel modello delle classi la stessa cosa sul modello del processo non è che sto a dire esattamente ogni click che l'utente deve fare ogni azione ogni pagina ogni numeretto dove deve definire do un processo principale do delle alternative do delle regole poi come tu ti implementi queste regole dipenderà ma io ho qualche cosa che mi permette poi di verificare che ciò che hai implementato con il sistema corrisponda con l'idea di processo che avevo in mente e che ho formalizzato attraverso quello quindi per questo a volte diciamo ma non entrare troppo nel dettaglio fermati a un certo punto perché da qua in poi stai facendo la processazione di dettaglio non stai più impostando il processo se poi andiamo a vedere il tipo di informazioni che vengono veicolate da un requisito solitamente li dividiamo in requisiti utente e requisiti di sistema sono termini un po' sfortunati perché in realtà entrambi sono requisiti sul sistema sono requisiti su ciò che il sistema deve fare però questo è il nome che hanno acquisito nei decenni gli user requirements gli requisiti utente sono quei sotto insieme dei requisiti che sono di interesse e se vogliamo anche di comprensibilità comprensibili per l'utente finale ci sono quei requisiti che effettivamente descrivono come si comporta il sistema descrivono le funzioni che offre descrivono l'interazione con l'utente descrivono i tempi di risposta descrivono quella che è la parte visibile e percettibile del sistema da parte dell'utente l'utente non ha bisogno di conoscere altro quella è la descrizione del sistema che lo userà o meglio della parte di sistema che lui vedrà attraverso la sua interfaccia poi c'è tutta una serie di altri requisiti molto più dettagliati ne butto giù un esempio un linguaggio di programmazione questo sistema qua lo facciamo come? lo facciamo in Java in C Sharp in PHP in Python usando quali librerie usando quali database cioè all'utente di questo non interessa cosa che potrebbe interessare all'utente magari sono i costi relativi alle varie licenze software ai vari hardware che deve acquistare eccetera ma vabbè quello è un altro aspetto quindi non fa sicuramente parte di un requisito utente la scelta del tipo di database da utilizzare all'interno del server ma allo stesso tempo è un requisito è una scelta di progetto che si può fare all'inizio in modo che poi tutti coloro che dovranno lavorare su questo progetto sappiano che l'ambiente di programmazione e di sviluppo è di un certo tipo quindi su questa tipologia di requisiti ricade nella seconda categoria che sono i requisiti di sistema o i requisiti per gli sviluppatori che dicono quali sono diciamo danno delle specifiche maggiori più dettagliate rispetto dalle informazioni maggiori sul sistema che non sono di diretto interesse sull'utente ma sono sicuramente necessarie per chi poi dovrà progettare e sviluppare il sistema stesso mentre sui primi sui user requirements dobbiamo fare attenzione alla fase di validation perché essere sicuri che quei requisiti catturino effettivamente ciò che l'utente aveva in mente e questo vuole anche dire che devono essere scritti in un modo che l'utente possa comprendere che siano comprensibili all'utente finale che non necessariamente deve essere un tecnico i requisiti di sistema invece sono informazioni più tecniche ad uso quasi interno poi magari in un bando di gara li metto lo stesso perché so che poi il sistema dovrà girare sui miei server che hanno certe caratteristiche o la mia azienda ha fatto certe scelte quindi non vuol dire che non interessino siano completamente liberi ogni sviluppatore può fare ciò che vuole sono requisiti che possono essere specificati ma non impattano diciamo così la comprensione delle funzionalità del sistema da parte dell'utente bensì impattano la comprensione delle modalità di realizzazione da parte degli sviluppatori con questi due livelli noi nel tipo di lavoro che facciamo ci concentriamo ci stiamo concentrando maggiormente su requisiti utente i secondi sono già più vicini alla fase di progettazione vera e propria ad esempio lo stesso requisito può essere scritto in modi diversi a seconda che sia rivolto l'utente ossia rivolto agli sviluppatori e se io sto dicendo che il software che sto creando deve fornire un modo per rappresentare ed accedere a dei file esterni i quali possono essere modificati da altri strumenti cosa sto immaginando? sto immaginando un sistema in cui raccolgo dei documenti di varia natura immagini fogli excel documenti pdf eccetera e il sistema che li raccoglie questo software che sto progettando deve permettermi di modificare i vari tipi di documenti attraverso gli strumenti più opportuni quindi se ho un foglio di lavoro aprirà un foglio excel aprirà excel se ho un pdf aprirà il visualizzatore pdf e così via questo per l'utente basta vuol dire che lui dentro nel sistema avrà una certa serie di tipi di file diversi e dico io cliccando aprendo in qualche modo o ciascun file si aprirà lo strumento più opportuno per poterlo editare per poterlo modificare non è bisogno di capire altro sai che quel sistema ha quelle funzionalità lì poi magari in due righe si potrebbe scrivere in 4 o 5 per spiegarlo un po' meglio ma qua nella slide non ci stava se invece lo stesso requisito lo devo spiegare agli sviluppatori e qui saltano fuori una serie di dettagli in più cioè questo sistema per poter implementare queste funzionalità beh innanzitutto devo avere un modo per poter definire quali sono i tipi di file che voglio supportare cioè è un sistema che nasce oggi con cablati 4 tipi di file Word, Excel, PDF e JPEG oppure un sistema che può crescere un domani e qualcuno potrà aggiungere vari tipi di file beh la seconda spero che non pensiamo a cose cablate oggi che magari dureranno anni con delle scelte arbitrali che sono state fatte in un certo momento nel passato e allora vuol dire che il fatto stesso che il sistema concepisce vari tipi di file deve esserci un modo all'interno del sistema per poter definire quali sono questi tipi e magari poter definire associare 1.2 a ciascuno di questi tipi che ho definito qual è il tool che lo deve aprire perché è un bello definire un nuovo tipo di file non so un file autocad senza dirgli che questo va aperto col programma di autocad e quindi devo definire nuovi tipi ma devo anche definire nuovi tool che sono in grado di gestire i tipi precedenti oppure quelli appena definiti poi devo poter scegliere un'icona per questi e questa icona eventualmente la vogliamo personalizzabile dall'utente e poi vogliamo a questo punto l'1.5 che è la vera diciamo traduzione a livello più tecnico di quello che era l'acquisto generale cioè quando l'utente seleziona un'icona che rappresenta un file di un certo tipo allora il sistema deve aprire il tool associato a quell'icona al tipo di file relativo all'icona questo è scritto con più parole perché deve mettere dentro tutti i dettagli sul tipo di file sull'icona eccetera però diciamo che siamo partiti da qua e poi ci siamo chiesti sì ma queste icone chi li definisce sì ma questo tipo di file chi li definisce sì ma chi è che collega i file i tool e l'icone e allora ci siamo accorti che nascevano analisi abbiamo fatto ci siamo accorti che dentro una frase che raccontava una funzionalità ci siamo accorti che servivano altre funzionalità secondarie se vogliamo minori per rendere la prima fattibile altrimenti sarebbe stata inutile allora in un documento per gli sviluppatori serve un livello di dettaglio di questo genere perché poi devi dire a tizio fai i punti 1, 2, 3 e a caio fai 4, 5 ma se non li hai elencati prima rischi di fare un pezzo senza far l'altro di non avere controllo poi tutti questi dettagli non servono invece all'utente finale che magari avrebbe anche difficoltà a capire ma cos'è sta cosa qua dei tipi di file dell'icone quindi sono questi due linguaggi diversi e potete immaginare utenti diversi che siano destinatari di questi requisiti e infatti c'è un un continuum di livelli di dettaglio sulla sinistra ho provato a fare tre istantanei del livello di dettaglio dei documenti cioè i requisiti utente i requisiti di sistema oppure la specifica dettagliata del software da realizzare perché poi a un certo punto che qui non abbiamo ancora visto ci sarà qualcuno che deve dire come si chiama la funzione java che fa sta roba qua come si chiama la pagina web che fa questo quali sono i parametri dove sono memorizzati quindi servono poi a un certo punto passare dalle parole alle informazioni di programmazione che sono le specifiche del software ecco questo c'è un continuum man mano che scendo aggiungo dettagli e questi dettagli mi portano sempre più vicino al codice e sempre più lontano da quello che era l'utente si spera che nel fare questi passaggi io stia solo aggiungendo specificando meglio informazione e mai perdendo di vista quello che era lo scopo principale e sulla destra sono indicati alcuni esempi delle persone che potrebbero essere interessate a leggere e a comprendere questo tipo di requisiti ad esempio i requisiti utenti devono essere comprensibili dagli utenti finali dai manager del cliente ma anche dagli ingegneri del cliente dei tecnici ma anche dai nostri architetti di sistema da chi deve poi progettare il sistema man mano che scendo perdo sempre di più diciamo così scendendo le figure legate al cliente salvo magari mantenere ancora il contatto con i tecnici del nostro committente che possono aiutarci a capire se le scelte che stiamo facendo implementative vanno bene a loro e ci perdiamo sempre di più le figure che qui sono indicate come managers che in qualche modo sono i committenti le due entità che si accordano sul tipo di sistema da fare perché una volta che hanno capito qual è hanno compreso e hanno deciso qual è il sistema da costruire poi come venga costruito interessa di meno non interessa a quella figura professionale magari possono interessare i tempi e i costi ma che non sono comprese all'interno di una specifica tecnica quindi man mano che si scende si passa a un linguaggio anche il linguaggio con cui devono essere scritti questi documenti ovviamente dovrà essere consono al tipo di audience di lettori che questi tipi di documenti possono avere quindi il linguaggio man mano che si scende diventa più esteso ci sono più cose da dire ma anche più tecnico molto più tecnico andando avanti mentre invece finché rimaniamo sul requisito utente non si può scendere troppo nel tecnico perché altrimenti ci perdiamo il cliente perdiamo la possibilità di chiedere al cliente di fare un'operazione che sarebbe sempre bello fare che è quella della firma delle specifiche sign off così detto infatti nei processi diciamo così che funzionano bene purtroppo nel regolamento degli appalti nostro non lo permette tanto facilmente è sempre bene riuscire a separare lo sviluppo di un sistema in due fasi ben distinte una l'analisi e poi l'implementazione e l'analisi termina proprio con un documento con una documentazione di questo livello user e in parte system la quale viene presentata al committente che deve accettarla firmarla dicendo ok ho capito l'analisi che mi hai fatto e l'accetto da quel momento in avanti e anzi in realtà solo in quel momento si può avere una stima corretta dei tempi e dei costi cioè io non posso dirti quanto tempo ci metterò quanto costerà finché non ho capito esattamente cosa devo fare e non l'ho capito fino a quando non mi sono messo lì a fare un po' di analisi mi sono immaginato un sistema te l'ho presentato e tu mi abbia detto sì è questo che voglio perché se mi baso sulla descrizione che mi fai che mi fai così e poi mi chiedi un preventivo devo mettere i numeri a caso perché non sono sicuro di aver capito esattamente ciò che vuoi e se io l'ho capito non sono sicuro che tu abbia in mente la stessa cosa o che abbia capito ciò che ti farò io quindi se è possibile e soprattutto sulle commesse grandi e soprattutto nel privato dove non abbiamo dei vincoli su come avvengono queste cose sono proprio due fasi separate io mi scelgo un fornitore lavoro con questo sulle specifiche sui requisiti e questo è un lavoro magari porta via uno, due, tre mesi e si arriva ai requisiti una volta definiti questi a questo punto si può decidere se proseguire con l'implementazione e quindi far poi una pianificazione delle risorse far tutto all'inizio senza ancora avere requisiti ben definiti è un rischio è un rischio molto più forte l'alternativa quando non si può è che a questo punto sta al cliente al committente farsi carico lui di creare questi requisiti e li mette nel bando di gara però è il suo mestiere punto di domanda siamo sicuri che lo faccia bene? poi un'altra distinzione quindi in qualche modo stiamo cercando di di spacchettare la tassonomia dei requisiti no? generale di dettaglio utente sistema adesso c'è questa altra grossa distinzione tra requisiti funzionali e requisiti non funzionali questa è la distinzione forse più importante i requisiti funzionali sono forse lo dice il nome quelle quelle affermazioni quelle specifiche che ci dicono i servizi che il sistema deve fornire cioè cosa di nuovo cosa il sistema deve fare che risultati deve dare in certe situazioni in tutte le situazioni sono se vogliamo la parte di cui ci siamo occupati finora la più facile da capire cosa fa il sistema quali funzioni offre l'utente poi ci sono i requisiti non funzionali purtroppo hanno un nome negativo dice non sono quelli là non sono quelli funzionali sono qualcos'altro alcuni li chiamano anche requisiti di qualità anche se un nome è anche qua sfortunato perché il requisito di qualità in italiano sembra quasi volessi tradurre come requisito qualitativo e in italiano la parola qualitativo significa impreciso approssimativo ma sì più o meno no? invece no anzi i requisiti di qualità o requisiti non funzionali tendono quasi ad essere più precisi di quelli funzionali perché sono e qui andiamo a prendere il significato della parola qualità sono delle qualifiche che il sistema deve avere delle misure che possono essere prese sul sistema e che devono essere verificate qui dice che i requisiti non funzionali rappresentano dei vincoli sui servizi e sulle funzioni offerte dal sistema allora un attimo ma i servizi o funzioni offerte dal sistema abbiamo appena detto che sono descritti dai requisiti funzionali ok quindi i requisiti non funzionali mettono dei vincoli aggiuntivi su come dovranno essere realizzati realizzate le funzioni descritte dai requisiti funzionali e questi vincoli cosa possono essere? vincoli di tempo di risorse di linguaggio di processo di sviluppo c'è un esempio semplice il sistema dice gli utenti si devono poter registrare al sistema la cosa più banale è che un sistema deve permettere ai propri utenti di registrarsi i formi dei propri dati va bene i requisiti qualitativi possono dire un requisito di qualità può essere che la funzione di registrazione di un nuovo utente deve essere accessibile sia da web che da mobile che da smartphone allora dire che quella funzione è accessibile sia da browser web che da smartphone non cambia la funzione la funzione è sempre l'utente si registra cambierà però di sicuro il modo in cui la implemento perché devo tener conto che parte degli utenti saranno su smartphone parte degli utenti saranno su web e quindi dovrò decidere ma cosa faccio un'interfaccia unica che si adatti oppure due diverse che a seconda del tipo di collegamento presento l'una oppure l'altra ma queste sono poi scelte di progetto non ci interessano però io ho messo un vincolo su come realizzare quella funzione se tu me la realizzi in modo che sia visibile solamente da web non va bene il requisito funzionale l'hai rispettato sì perché ci si può registrare al sistema non hai requisito non hai rispettato un vincolo aggiuntivo che in questo caso descriveva i dispositivi di input che l'utente poteva usare oppure un altro requisito di qualità è la lingua il sistema è una lingua due cinque sette quali in italiano italiano inglese italiano inglese russo e arabo questo il fatto di essere in più lingue non cambia i requisiti funzionali può cambiare forse aggiungere un requisito funzionale in più che dice l'utente può selezionare la lingua preferita in una lista di 400 requisiti funzionali ne aggiungo uno ma mettere la frase il sistema deve essere disponibile in italiano inglese è una descrizione la qualità che descrive il sistema come è è così è giallo no è in più lingue però vuol dire che se io dichiaro il sistema deve essere fatto in italiano inglese ogni singolo requisito funzionale deve essere implementato nei due modi in italiano e in inglese ogni funzione nel sistema l'utente si registra l'utente fa logge l'utente perde la password l'utente invia un messaggio l'utente si cancella l'utente crea un gruppo tutto deve essere in due lingue quando dico di nuovo il possibile requisito di qualità il tempo di risposta del sistema deve essere inferiore a 200 millisecondi è un vincolo che metto automaticamente su tutto il sistema su ciascuno dei requisiti funzionali che il sistema deve implementare cioè qualunque cosa gli implementi deve rispondere a 200 millisecondi hai quel budget di tempo tutto quindi un requisito funzionale in qualche modo descrive un pezzo del sistema le varie funzioni del sistema le descrivo una a una attraverso tanti requisiti funzionali che mi dicono cosa il sistema fa ne posso sempre aggiungere uno vabbè il sistema farà una cosa in più bisognerà scrivere un po' di codice in più ne posso sempre togliere uno vabbè adesso non è più possibile recuperare la password perché quella funzionalità lì non funziona non l'abbiamo implementata o altro ma tutto il resto del sistema funziona quindi i requisiti funzionali in buona misura sono tendono ad essere abbastanza indipendenti l'uno dall'altro separati ciascuno dice una delle cose che il sistema deve fare e il fatto che faccia la cosa A non implica nulla sul fatto che possa fare o debba fare anche la cosa B infatti vediamo magari su sistemi nuovi che crescono sempre man mano che arrivano nuove versioni nuove release nuovi rilasci del prodotto si aggiungono le funzioni a ogni nuova versione ci si aspetta di trovare delle funzioni in più quindi magari dei requisiti funzionali che uno aveva già in mente ma non li ha implementati nella versione 1 perché aspetta la versione 2 la versione 3 per putarli dentro perché erano meno importanti meno urgenti c'erano dei vincoli di costo bisogna uscire prima con un prodotto eccetera eccetera quindi i requisiti funzionali sono quelli più importanti perché danno la natura del prodotto ma sono quelli anche più malleabili in qualche modo sono più duttile aggiungo lo tolgo sono abbastanza indipendenti l'uno dall'altro sono anche abbastanza facili da verificare perché se mi dice che il sistema mi permette di cambiare la mia immagine nel profilo come faccio a sapere se è implementato sì o no e se è implementato correttamente provo a cambiare l'immagine nel profilo attivo quella funzione lì la cambio la cancello la aggiungo la ricarico e vedo se funziona faccio una serie di test per verificare se quella funzione lì è implementata correttamente se mi chiedo di verificare se è vero che il sito e quindi verifico solo quella funzione lì due pagine del sito che fanno quello se però mi chiedono verifica invece il requisito non funzionale che ti dice che il sistema deve essere in italiano o in inglese lo devo provare su tutte le pagine del sito se mi chiedono verifica che il tempo di risposta sia inferiore ai 200 millisecondi devo farlo su tutte le pagine del sito provarle tutte e cronometrarle soprattutto poi quelle magari più complicate dove ci sono le funzioni di ricerca provare ricerche anche complicate cattive per vedere se riesco a farli superare quel tempo oppure se il sistema effettivamente risponde nel tempo previsto quindi in qualche modo un requisito di qualità è descrittivo è un vincolo dice guarda il sistema fallo come vuoi tu purché rispetti questo vincolo e si applica automaticamente a tutti i requisiti funzionali il sistema deve funzionare anche su smartphone ok ogni singola pagina deve essere funzionale su smartphone immaginate cosa succede se io prendo un sistema che è già quasi pronto sono a due settimane della consegna e mi dicono senti c'è un requisito funzionale in più e vabbè senti due giorni magari riesco a implementarlo se questo requisito funzionale non è complicatissimo se invece mi dicessero guarda c'è un requisito non funzionale in più adesso devi farlo anche in cinese il sito ma però abbiamo il traduttore abbiamo tutte le risorse eccetera però non ci metto due giorni devo andare a rivedere ogni singola pagina ogni singolo messaggio ogni singolo foglio di input ogni singola validazione eccetera se mi dicono adesso se me lo dicono alla fine che il sito deve essere visibile anche via smartphone c'è tutto da rifare se me lo dici all'inizio ne tengo conto se me lo dici alla fine è un disastro quindi questo tipo di vincoli sono quelli molto più rigidi perché ti danno una gabbia all'interno del quale devi stare nello sviluppo di tutte le altre funzioni e sono quasi sempre vincoli di tipo sì no se supporti quella modalità la lingua l'interfaccia il tempo di esecuzione la memoria occupata la versione deve funzionare su dispositivi android anche vecchi dalla versione 4 di android in avanti e non lo posso sapere dopo perché magari so che devo usare certi ambienti di sviluppo non devo usare certe librerie che non sono supportate su certe versioni del sistema operativo quindi questi requisiti che appunto cerchiamo di non non pensarli come qualitativi nel senso di approssimativi ti mettono dei paletti all'interno dei quali devi stare nell'implementazione del sistema quindi il grosso del lavoro è nell'implementazione effettiva dei requisiti funzionali ma le scelte che vengono fatte le modalità con cui si implementano queste funzionalità devono tener conto dei vincoli imposti dei requisiti non funzionali i requisiti non funzionali di solito non dovrebbero cambiare perché se no c'è spesso quasi tutto da rifare mentre invece quelli funzionali tendono a evolvere più rapidamente in funzione delle nuove necessità del sistema poi esiste una sottocategoria di requisiti non funzionali che qui abbiamo chiamato si chiamano requisiti di dominio perché sono in qualche modo impliciti sottintesi obbligatori a seconda del dominio applicativo in cui andiamo a lavorare cioè se voi fate un sistema informativo che deve gestire i bilanci delle aziende allora che voi lo scriviate o no nei vostri requisiti però deve soddisfare tutta una serie di leggi normative vigenti esistenti oggi quelli ci sono non le puoi eludere quindi sono requisiti che ti piacciono o no ci sono e li devi implementare se tu devi lavorare in un sistema che non so per un committente che è nel mondo aerospaziale loro hanno tutta una serie di requisiti sulle modalità di lavoro sulle modalità di testing sulla tenuta della documentazione eccetera che è così in quel dominio applicativo quelle sono le regole vigenti anche magari molto tecniche implementative sui linguaggi soprattutto gli strumenti di documentazione che sono molto importanti in quei campi di analisi dei guasti dei possibili difetti a priori eccetera se tu lavori in ambito medico in cui fai un sistema informativo per la gestione dei dati clinici per dire ti porti dietro una serie di requisiti sulla privacy l'accessibilità dei dati eccetera eccetera se invece lavori sul sistema che è diretto contatto con l'utente sempre in campo medico devi fare delle terapie allora è ancora più complicato perché lì non devi proprio sbagliare perché sennò rischi di fare una cura sbagliata e iniettare una quantità errata di farmaco o di questo genere allora lì ci sono una serie di normative aggiuntive allora ci sono dei se noi ci immaginiamo appunto il sito il twitter di turno chi se frega lui di fatto è un servizio opzionale offerto di nessun valore diciamo pratico poi vabbè economico ce l'hanno quindi non ha nessun non ha quasi nessun vincolo di dominio di questo tipo ma invece in alcuni settori il sistema informativo non dimentichiamoci mai che deve in base alla definizione che mi hai dato all'inizio deve gestire i processi di un determinato business allora se quel business è soggetto a certe regole allora il sistema informativo si deve far carico di rispettare tutte queste regole spesso è difficile anche conoscerle capirle tutte perché quali sono le regole che si applicano alla gestione dei dati personali dei dati sensibili in Italia e non in Italia sono diverse in ogni stato avrà le sue allora se il mio sistema informativo tra i requisiti non funzionali c'è quello di poter lavorare sull'intera Unione Europea allora mi porto dietro come requisiti di dominio le normative sulla privacy di 20 e quanti sono stati europei e devo riuscire a gestirle tutte e conoscerle come prima cosa quindi questo è un fardello nascosto che ci si porta dietro nel momento in cui si decide di andare a lavorare per un certo tipo di clienti o all'interno di un certo tipo di filone industriale o di mercato che impattano ovviamente perché questi in qualche modo sono sotto caso dicevamo di requisiti non funzionali impattano sui requisiti funzionali quindi questo rende ad esempio molto difficile traslare un sistema che è stato sviluppato per un dominio traslare un dominio diverso cosa c'è di diverso tra un sistema di gestione documentale che permette di gestire i documenti in un'azienda è un sistema di gestione delle cartelle cliniche dal punto di vista funzionale relativamente poco cioè c'è tanti documenti da archiviare secondo dei vari nomi dal punto di vista dei requisiti di dominio completamente diversi perché da un lato si tratta di gestire documenti che sono tutti di proprietà di un'azienda quindi definiti delle regole di visibilità che sono legate all'organigramma aziendale nell'altro caso invece c'è i problemi di privacy c'è la sicurezza dei dati accesso privato tracciabilità di chi ha visto quali informazioni e così via ma alla fine le funzioni di data sono sempre carica la cosa leggila consultala cancella aggiornala quindi questo è il mondo dei requisiti e ovviamente il nemico principale di un requisito è l'ambiguità cioè il fatto che un requisito sia non preciso sia ambiguo e possa essere implementato in modi diversi dai vari persone coinvolte ad esempio dall'utente e dallo sviluppatore è l'altalena questa è il disegno dell'altalena noi stiamo cercando di fare di tutto per evitare quella situazione per evitare che diverse persone tra quelle che sono coinvolte nella gestione dei requisiti possono interpretare a un determinato punto in modo diverso e questo lo cerchiamo di farlo dandoci un metodo dandoci delle formalizzazioni dandoci dei linguaggi che siano il più possibile precisi e dandoci una struttura attraverso la quale una struttura collaudata attraverso la quale descrivere questi requisiti allora questo è l'elenco delle qualità che vorremmo che dei buoni requisiti avessero è chiedere molto però da un lato se vogliamo sono l'ideale di come vorremmo i requisiti ma allo stesso tempo anche se sappiamo che la perfezione del 100% non ci arriveremo mai queste categorie sono un po' anche una ci servono anche come guida quando noi andiamo a sviluppare i nostri requisiti allora nello scegliere tra un far la cosa in un modo o rappresentarla in un modo o rappresentarla in un modo diverso mi faccio guidare da queste qualità cioè a cui farlo maggiormente corretto maggiormente coerente maggiormente verificabile e così via quindi sappiamo che non ci arriveremo mai al 100% di questa qualità anche perché non è possibile ma almeno abbiamo dei criteri che ci permettono un po' di scegliere un po' come quando avevamo visto i diagrammi delle classi abbiamo detto un diagramma non ridondante quindi minimale è sempre da preferire un diagramma che abbia le stesse informazioni ma abbia più classi e più relazioni per descriverlo ma puntavamo a quello come criterio di progettazione e prendiamole uno per uno queste voci beh questo è il principale cioè un requisito deve essere corretto deve essere giusto cioè io ti richiedo una cosa se ti richiedo una cosa è perché il sistema deve fare quella cosa non ti fa non ti richiede all'interno di un requisito non devo richiederti ad esempio una funzionalità che al sistema non serve o che è diversa da quella che il sistema serve questa è la parte chiaramente più importante altrimenti non servono a nulla questi requisiti se non descrivono esattamente ciò che il sistema deve fare e soprattutto è questa la parte di verifica che va fatta col cliente ogni requisito dovrebbe avere una sola interpretazione possibile cioè non è possibile poterlo implementare interpretare in due modi diversi da parte di persone diverse questo significa da un lato che chi ha scritto il requisito deve avere le idee molto chiare su ciò che vuole perché se tu già hai le idee confuse di sicuro descriverai qualcosa descriverai qualche cosa di confuso quindi la fase di analisi deve essere completata devo aver capito bene il dettaglio di che cosa voglio prima metà e la seconda metà è che devo poi una volta che l'ho capito bene ho le idee chiare non ho io innanzitutto le idee confuse devo poter poi scrivere o descrivere in un modo chiaro allora per quello che ad esempio alcuni artifici linguistici noi li vietiamo ad esempio non bisogna in un documento di requisiti usare dei sinonimi nel nostro picco nell'esercizio che abbiamo fatto ogni volta andavamo a vedere ma nel modello concettuale quello lì come si chiamava? si chiamava partecipante allora usiamo sempre partecipante non usiamo un po' partecipante un po' utente un po' giocatore un po' concorrente perché altrimenti c'è sempre il dubbio e l'avete visto nei testi di esercizi ma queste due parole vogliono dire la stessa cosa si riferiscono allo stesso concetto o no? perché il linguaggio naturale è fatto così è fatto per perifrasi è fatto per sinonimi per poter alleggerire la lettura invece qui stiamo facendo un documento tecnico in cui ogni termine deve avere il suo significato quindi i verbi devono essere usati sempre in modo coerente i sostantivi sempre in modo coerente sarà più pesante da leggere perché trovarsi la stessa parola ripetuta 17 volte nella stessa pagina effettivamente non è una lettura piacevole ma quantomeno non è ambigua poi ovviamente questo è solamente il primo passo dell'uso dei sostantivi poi bisogna anche scriverle in modo chiaro frasi semplici dirette staccate no? poi noi buona parte di questi problemi di scrittura ce li togliamo perché abbiamo scelto un formalismo qua nel corso grafico cioè le cose che sanno nei diagrammi delle classi o nei diagrammi del processo le potremmo anche descrivere a parole ma sarebbe molto più difficile essere così precisi invece lì il formalismo ci aiuta a non essere per sua natura una linea che collega due classi indica una relazione i numerini che ci stanno a fianco indicano le cardinalità e quello non è ambiguo perché abbiamo imparato quel linguaggio di descrizione lì che hanno inventato apposta l'altro obiettivo sarebbe la completezza cioè quando io ho un documento dei requisiti che purtroppo non sarà di tre pagine ma magari di 300 siamo sicuri che ci sia tutto che non ci siamo dimenticati dei pezzi che alcune funzionalità che in realtà il sistema parlo di funzionalità perché i requisiti funzionali sono più facili da pensare che alcune funzionalità del sistema che ci devono essere in realtà non le abbia dimenticate per distrazione forse perché le davano tutti per scontate per sottintese sono sicuro di aver catturato tutti i casi possibili tutte le anomalie che si possono verificare perché a volte è facile descrivere le funzionalità principali di un sistema però per ogni funzionalità principale l'utente può fare X ci saranno almeno dieci modi in cui questa cosa può andare storta l'utente non ci riesce ci riesce ci riesce due volte l'utente si è incasinato il sistema ha dato errore i dati non ci sono immaginate voi pensiamo all'esempio che facevamo prima nelle elezioni precedenti dell'hackathon lì c'è un punto fragilissimo che è quello che dice un utente contatta un altro utente per fare un team lì di cose che possono andare storte ce ne sono l'utente non lo fa non contatta nessuno oppure lo contatta ma l'altro non risponde quindi si accumulano le richieste l'altro non risponde mai cosa vorrei fare oppure lo contatto ma già vabbè in questo caso in parte l'avamo già resistito ha già raggiunto il numero massimo di richieste oppure se io chiedo a te e tu chiedi a un altro e l'altro chiede a me come succede a seconda dell'ordine in cui rispondiamo qual è l'esito finale e alla fine devo decidere che cosa succede in tutti i casi possibili noi non l'abbiamo fatto questa analisi qua cioè cosa succede nei casi malati di creazione dei team in modo strano non lo sappiamo non l'abbiamo approfondito non l'abbiamo descritto il nostro modello non l'abbiamo descritto il caso principale è un paio di anomalie macro cioè il tipo faccio una richiesta non ti permette di fare una richiesta se il team di destinazione è già pieno punto quindi questa richiesta di completezza significa appunto considerare sia tutte le funzioni sia tutte le varianti soprattutto quelle errate date da anomalie errori malfunzionamenti delle funzioni esistenti fino a qua diciamo così la correttezza e la non ambiguità sono caratteristiche puntuali cioè il singolo requisito può essere corretto il singolo requisito può essere non ambiguo la completezza è più difficile perché è un requisito complessivo l'insieme dei requisiti è completo? se non è completo non è colpa di nessuno di essi è colpa del loro insieme quindi un problema di complessità n la coerenza è ancora più complicata perché mi si chiede ma se io prendo questo requisito che dice una certa cosa e prendo questi tre messi insieme che dicono un'altra cosa dicono altre cose ma la combinazione dei due è incompatibile mi dà un'incoerenza ok allora soprattutto quando ho molti requisiti su sistemi complessi è facile che da una parte descriva certe cose certi funzionamenti del sistema da un'altra parte descriva altri e che poi questi requisiti vadano in conflitto cioè il nostro esempio parlando della formazione dei gruppi se avessi dichiarato anche che il gruppo aveva una dimensione minima ogni gruppo deve avere una dimensione minima e la frase le iscrizioni la formazione di gruppo si chiudono due giorni prima della data sono requisiti conflittuali perché non ti dicono se due giorni prima della data non ho o delle persone che appartengono a gruppi che non hanno raggiunto la dimensione minima cosa devo fare non possono essere vere entrambe queste affermazioni ok quindi in qualche modo dovrò risolvere questa ambiguità ad esempio la chiusura delle iscrizioni i gruppi che non hanno la dimensione minima vengono esclusi non lo so è un modo possibile per rendere non più incompatibili le cose però è più complicato dicevo trovare queste incoerenze perché non devo semplicemente andare a verificare un singolo requisito per volta o i requisiti nel loro complesso ma le coppie o i gruppi di requisiti come si confrontano tra di loro quindi il numero di combinazioni possibili aumenta almeno quadraticamente col numero di requisiti poi da non dimenticare che questi come dicevo prima non arriveranno mai al 100% ma anche perché teoricamente è impossibile cioè la completezza e la coerenza non sono mai ringibili entrambe al 100% qualunque sistema se vogliamo anche passare sul campo della matematica qualunque sistema sufficientemente complesso è incompleto e qualunque sistema completo di deduzione comprende al suo interno delle incoerenze quindi non facciamo filosofia matematica ma sappiamo che ci sono dei limiti d'altronde noi non dobbiamo costruire dei sistemi formali galattici dobbiamo avere un documento di requisiti che sia robusto rispetto alla costruzione del sistema informativo che segue quindi questi vari requisiti che ci siamo dati all'inizio queste varie qualità dei requisiti in qualche modo sono sempre in conflitto una con l'altra ok passando a quelle più facili una cosa importante sui requisiti soprattutto quelli funzionali è definire un rank un ordinamento una priorità quali requisiti sono più importanti di altri sui requisiti non funzionali sono tutti importanti quasi sempre sono tutti di uguale importanza nel senso che tutti devono essere soddisfatti punto ma sui requisiti funzionali che descrivono un po' l'estensione del sistema ci saranno alcune cose che sono più importanti nel senso che servono prima sono dei prerequisiti e altri che sono meno importanti nel senso che se quella funzionalità ci fosse sarebbe meglio ma se non ci fosse se non ci fosse subito non è poi così grave allora questa la conoscenza esplicita di quali sono i requisiti più importanti e quali meno importanti è uno strumento in mano al project manager che in caso di ritardi in caso di difficoltà sa già subito su quali parti tagliare non sicuramente sui requisiti di priorità 1 ma su quelli di priorità 2 o 3 ok ci sono delle difficoltà con una cosa questa cosa la ritardiamo alla prossima versione la facciamo dopo tanto abbiamo già deciso all'inizio e abbiamo condiviso col cliente che quelle funzionalità erano più importanti delle altre quindi arriviamo a un prodotto che abbia certe funzionalità sicuramente presenti altre molto probabilmente presenti altre se proprio tutto va bene avremo tempo di fare anche quelle altre e le includeremo è importante che questa priorità venga decisa prima di iniziare a sviluppare il sistema finché elementi sono ancora calme e fresche perché in un momento di crisi quando il prodotto è in ritardo c'è il cliente che preme c'è il project manager che dà i numeri non puoi sederti a tavolino ragionare se la funzione A o la funzione B quale è le due più importante perché in realtà entrambi non riusciremo di sicuro a farle non lo puoi fare in un momento di crisi una scelta di questo genere se la fai la fai a casa se invece tu hai condiviso prima hai ragionato prima sull'importanza relativa delle varie funzionalità nel momento di replanning che qualunque project manager deve fare in caso di imprevisti deve ripianificare le azioni hai già uno strumento in mano che ti permette di decidere senza perdere l'ulteriore tempo litigare su che cosa scegliere quindi questo lo si fa all'inizio e lo si usa per l'evoluzione del sistema quindi ma quando la prossima versione cosa aggiungerò o per la gestione delle 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 emergenze in certo senso quindi come minimo uno potrebbe dire requisito obbligatorio requisito preferibile se si può è meglio mettere opzionale se proprio vediamo ma altrimenti qualunque sistema di ranking un numero da 1 a 10 un numero di versione previsto questo sarà nella versione 3 questo sarà nella versione 4 qualunque sistema che ci permetta di mettere in ordine questi requisiti ecco l'altra caratteristica che va di pari passo alla correttezza è la verificabilità cioè non solo un requisito deve essere corretto scritto bene comprensibile ma anche verificabile cioè deve essere facile capire come fare a verificare se quel requisito è soddisfatto o no nel sistema idealmente il requisito stesso deve comprendere una frasetta che dice e per verificare questo requisito fate così se ci mettiamo d'accordo prima su come fare a verificare quel requisito ad esempio il discorso della foto del profilo che dicevo prima per verificarlo è sufficiente caricare queste foto di esempio queste tre le decisiamo già subito e poi provare a cancellarle cioè la possibilità di avere una procedura di test che possa verificare singolarmente ciascun requisito anche questo se le decisiamo prima quando poi consegniamo il prodotto non solo sarà più facile fare la verifica ma io che consegno il prodotto posso già farmi le verifiche in casa mia che saranno le stesse che farai tu cliente e quindi evitiamo sorprese dell'ultimo momento ok le ultime due proprietà non ci stanno oggi quindi le rimandiamo giovedì